il salmo 80 che ascolteremo durante la santa messa di oggi ci regala una immagine sorprendente se il mio popolo mi ascoltasse se israele camminasse per le mie vie lo nutrirei con fiore di frumento lo sazierei con miele dalla roccia è un dio che nutre il suo popolo senza indugio e che si rammarica del non essere ascoltato la sua perfezione è l'amore con cui nutre noi sue creature proprio come un padre e una madre verso i figli se solo la nostra fede aumentasse così poco per credere davvero a questa promessa d'amore entreremmo in uno stato di grazia tutto diventerebbe più semplice più bello acquisterebbe un altro sapore diversamente facciamo da soli e andiamo incontro ai nostri limiti ai nostri fallimenti possiamo anche raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati la ricchezza il potere o come si dice spesso il successo ma quanto senso di vuoto di inutilità proviamo se la via che stiamo percorrendo ci porta lontano da dio al contrario quanto è liberante quanta pace ci dona l'aver scelto la strada che ci porta al suo regno ed essere nella sua strada significa già essere con lui in sua compagnia e la pace e la gioia che sperimentiamo ne sono la prova tutto il resto ci sarà dato in aggiunta e sarà dolce come miele dalla roccia